Buongiorno a tutti Però vabbè comunque l'ho aperto ve lo lascio nella descrizione del video quindi qui sotto al titolo trovate il link per il canale non ci ho ancora messo niente comunque comincerò presto a metterci qualcosa e come dicevo caricherò ogni tanto non caricherò spesso caricherò tipo un video alla settimana giù di lì e non preoccupatevi perché non smetterò di fare i video di squishy su questo canale assolutamente non diminuirò i video su questo canale per quello assolutamente e niente spero che possa piacervi Ora sto facendo come vedete il video non col cellulare ma con la fotocamera perché devo leggere le domande che mi sono state fatte ho fatto alcuni screen di alcune domande a cui voglio rispondere e niente allora intanto comincio con le due domande che mi sono state fatte un sacco sia qui su instagram che mi vengono spesso fatte nei video Allora la prima domanda è stai ancora con Simo? Sì certo il fatto che non ci facciamo i video ultimamente non significa che non stiamo più insieme stiamo insieme stiamo insieme tranquillamente stiamo insieme da un anno e quasi nove mesi non male e niente quindi tutto qui me lo chiedete spesso ma non preoccupatevi stiamo ancora insieme L'altra domanda che mi viene fatta molto spesso è se ho novità con la casa e in realtà no cioè semplicemente ora sono con un'altra agenzia quella vecchia l'ho mandata perché proprio lasciamo perdere Sono con questa nuova agenzia mi hanno proposto alcune case che adesso devo devono vedere loro devono essere contattati perché ad agosto è impossibile contattare i proprietari delle case io odio agosto sono sempre tutti in ferie tranne me e quindi niente quando riusciranno a contattare qualcuno per vedere qualche casa magari il problema è che alcuni dicono di no prima ancora di farmelo vedere perché magari vogliono affittarla a una famiglia Magari non vogliono vogliono qualcuno con il tempo indeterminato e non un libero professionista Sì perché sapete le persone da sole che vogliono andare a vivere che hanno un lavoro loro però non sono dipendenti sono persone inutili no E vabbè speriamo bene io ho persino a sperarci ma tanto veramente ho una sfiga assurda non potete immaginare quante case mi dicono di no Alcuni non rispondono neanche maleducazione proprio ora passiamo alle domande di instagram Allora riprenderei mai in mano il fimo? Allora no io come vi dicevo ci ho già provato avevo comprato alcune cose non molto tempo fa ho provato a fare il fimo per principianti Sperando che mi ritornasse un po la voglia un po la passione ma No ragazzi purtroppo devo confermare l'avevo già confermato che la mia passione per il fimo è morta Infatti ho un sacco di panetti ancora chiusi che magari metterò in vendita su Etsy non so magari ci farò un lotto Specificando però che sono un po secchi cioè si usa tranquillamente io ho sempre usato il fimo secco basta modellarlo un po di più Quindi lo metterò a prezzo scontato lo specificherò nella descrizione che è così però lo darò via perché non me ne faccio niente E mi sembra un po uno spreco tenerlo io qui in uno scatolone Ti sei mai pentita di aver buttato alcuni squishy che avevi prima? Sì come forse non tutti lo sanno ma io collezionavo squishy già anni e anni fa quando ho aperto questo canale Poi avevo smesso perché comunque diciamoci la verità gli squishy che c'erano ai tempi magari erano carini ma come morbidezza non erano proprio niente di che Proprio zero Li avevo dati via e alcuni in effetti un po me ne pento ma solo perché erano molto carini perché Cioè a me gli squishy interessano molto che siano belli da palpare più che altro e quelli non lo erano per niente Qual è la prima cosa che vorrei vedere in Giappone e altra domanda che mi viene fatta spesso se farei dei vlog Allora sì io sono stata invitata dal Giappotour proprio per fare vlog quindi farò tipo un vlog al giorno quindi ogni giorno quando sarò in Giappone avrete dei vlog E io non lo so la prima cosa che voglio visitare io voglio visitare tutto non ho una cosa che voglio visitare prima Inoltre c'è un c'è proprio una lista di cose da fare già scritta non so come si chiama tanto cielo non mi viene la parola E comunque c'è già ecco l'itinerario è già scritto quindi non è che lo scelgo io cosa fare Questa non avevo intenzione di rispondere perché è una domanda proprio che non ha senso però mi ha fatto rimanere Non hai paura che di notte le statuini di Sailor Moon possano chiederti addosso? No no sinceramente proprio no Da dove prendi i tuoi soldi fai dei lavori per guadagnarli allora questa è una cosa che molti non capiscono e non capiranno mai Però ragazzi che voi ci crediate o no fare video su youtube a livelli alti quindi non con 10 iscritti naturalmente è un lavoro Voi dite ah no non ha senso stai in casa a fare video Ragazzi qualsiasi cosa che faccia guadagnare soldi è considerata un lavoro che sia stare in casa a fare video su youtube Che sia andare a lavorare in miniera che non metto in dubbio che sia più faticoso assolutamente sono d'accordo O che sia fare test per provare se sono comodi materassi Ci sono un sacco di tipi di lavori alcuni sono molto più comodi agevolati meno faticosi altri lo sono di più Ma visto che si guadagna facendo video su youtube avendo la partnership io faccio questo come lavoro Vorrei che questa cosa sia chiara i youtuber grandi guadagnano soldi facendo video su youtube Non è che loro fanno uno due video al giorno così a caso Sicuramente lo fanno anche per passione o almeno molti non so poi se lo fanno tutti Io per esempio lo faccio perché mi piace molto anche però è una cosa anche retribuita Anche perché se io facessi un altro lavoro non avrei tempo per far video tutti i giorni Anche questa è una cosa che mi viene chiesta non troppo spesso però abbastanza Mi chiedete di farvi vedere in un video mio padre Ragazzi io mio padre io con mio padre non ci vivo più insieme da 15 anni Io lo vedo una volta ogni morte di papa quindi cercate di capire Io mio padre nei video non lo riesco a far vedere sinceramente non voglio neanche Ti farei mai un altro tatuaggio? E in effetti io ci sto pensando da un po' Ho qualche idea in testa però non lo so perché quello che vorrei farmi è una cosa un po' grandina Beh grandina c'è una roba così non è una cosa che mi occupa tutto al corpo Però non lo so è comunque una cosa un po' impegnativa quindi devo un attimo decidere se farla dove farla Non vi dico cos'è perché non lo so non voglio dire niente per ora in caso mi deciderò a farla lo vedrete Però mi piacerebbe molto sì ci sto pensando da un bel po' Anche questa è una cosa che mi viene chiesta tantissimo Perché non continui il canale di gaming? Allora io pensavo che fosse abbastanza ovvio che non lo userò più Cioè sono sei mesi che non faccio più un video anche di più Allora il concetto è molto semplice Quando l'ho aperto ho pensato mi piacciono molto i videogiochi quindi per forza mi piacerà fare video di questo tipo Invece no non è così non per me Tutti i videogiochi che ho portato compreso minecraft che mi è sempre piaciuto molto da prima di aprire il canale Era per farci video era quasi uno sforzo a un certo punto e quindi quei giochi mi hanno schifato Cioè io adesso non ci gioco più a minecraft da quando ho smesso di Un buon motivo per continuare a fare video col cellulare e farli sempre C'è una luce assurda vabbè ma perché sei scaricata la batteria della fotocamera Stavo dicendo mi hanno stancato tutti questi videogiochi per registrarli non lo so Registrandoli mi hanno stancato quindi se devo fare una cosa che non mi piace Perché ragazzi il canale di videogiochi a parte per la prima settimana Per registrare i video non mi piaceva lo facevo perché mi seguivate eccetera Ma scusate cioè fatemi capire se voi una cosa non piace Cioè continuate a fare lo stesso o a un certo punto non ne potete più Cercate di capirmi un attimo il concetto era questo Niente l'ultima domanda era questa la batteria era L'aveva retto fino a quasi alla fine ma non ce l'ha fatta Niente spero che questo breve video vi sia piaciuto E noi ci vediamo domani col prossimo Ciao